Salve a tutti, oggi vi volevo mostrare un sito utile per rostare server di giochi o di Teamspeak, digitiamo sul browser l'indirizzo www.proserver.it. Questo sito serve come ho detto prima per rostare server di vari giochi, come Minecraft, Code, VTA, eccetera, e di Teamspeak, non ha prezzi molto alti, dipende dal gioco ma rimangono, e partono da 10 slot per per server con un massimo di 250, beh, per chi non vuole spendere molto ve lo consiglio. Anche la struttura del sito stesso è abbastanza intuitiva, semplice e dettagliata. Anche la struttura del sito stesso è abbastanza intuitiva, semplice e dettagliata. Per oggi è tutto ragazzi, spero che questo sito vi sia utile.